ragazzi ciao a tutti e bentornati in un nuovo video allora in questo video faccio il refill con la crigelle di la fam allora siccome ho cambiato telefono quindi sto provando questo nuovo programma per fare il video e spero acquisto utilizzando la nuova punta raptor di passione un che mi ha regalato la mia amica angela e questa è la fine e fantastica penso che acquisterò assolutamente anche la media quella in grana grande no ma quella in grana media si la voglio assolutamente acquistare perché è favolosa già questa essendo a grana fine smonta velocemente quindi quella grana media sarà perfetta e sarà il mio prossimo acquisto su passione unghie perché sono veramente strepitose allora in questo video diciamo questo video un po di prova per vedere un po se insomma questa tipologia di video vi piace nel senso che quando velocizzo il video è un po strano come immagine quindi fatemi sapere anche voi e vediamo un po se se cambiare qualche cosa io intanto ragazzi e vi lascio refil e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.